Cosa conosco io? Ma io che devo avere la curiosità per studiare e andare avanti di Grecia Non devo aspettare che lui è quello che mi insegna Questo è il discorso Bravo, questo è un discorso intelligente Perché quello che voglio avere è una via di uscita Perfetto, ma perché voglio uscire? Perché voglio uscire? Voglio uscire perché non voglio rimanere sempre nella merda Perché in questo luogo non stai comodo? Grazie per la visione!